benvenuti al canale di nerdcafè in questa nuova rubrica di spacchettamento di carte pokemon e ora andremo ad aprire i pacchetti di legami inossidabili procediamo col primo pacchetto intanto abbiamo un primo cadaver di mawile che è voluto cadere procediamo col primo pacchetto qr code via 1 2 3 4 energia tyrog cappuccio furtivo chateau un piccaccio marco rayon melton slowpoke war turtle reverse holo e hipno mettiamo qua procediamo col secondo pacchetto qur code 1 2 3 e 4 Energia Acqua, Hunter, Cleffa, Happiny, Zubat, Koffing, Doduo, Polivag e l'Artwork. Sprizzi, un Hagron Reverse Holo e Genesect. Per ora non è andata bene, vedremo con i prossimi pacchetti, QR Code, 1, 2, 3, 4. Energia Buio, Polirail, Getto di Involuzione Z, Metapod, Spearov, Giglipath, Krabby, Riolo, Espur, Cubone Reverse Holo e Porygon Z Holo. Not bad, top! Arriviamo al prossimo. Questo pacchetto non vuole aprirsi. Quarto, 1, 2, 3, 4. Energia Psico, Tap Soul, Frog Guardian, Saldatrice, Tentacle, Inkay, Cubone, Crab Roller, Sandile, Un Sandile Reverse Holo e Incineral. Va bene. Allora, andiamo col prossimo. Passiamo con questo. Qualcuno. Uno, due, tre, quattro. Energia Psico, Pocagear 3.0, Tapso, Esilio di Giovanni, Tentacle, Aaron, Sensio, Gastelino, Tangla, Barriera Metallica, Reverse Holo e Venom Mod. Siamo col prossimo. Sperando vada meglio. Quarto. Uno, due, tre, quattro. Energia Buio. Mino. Raticate. Energia Buio. Energia Accelerazione Tripla. Lickton. Lickton. Litten. Crabby. Intanto il vento continuo a fare danni. Tangla. Odish. Butterfree Reverse Holo. Carina. Eeeeh. Lick Rebellar. Bene. Direi che... Non sta andando come speravamo ragazzi. Vedremo l'ultimo pacchetto se andrà meglio. Intanto ragazzi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube. cercare la campanellina magica. Iscrivervi al nostro pagina Facebook. Il nostro sito web di Nerdcafè. Abbiamo anche la pagina Instagram. E anche quella Twitter. Dai. Procediamo con quest'ultimo pacchetto. Mmm. Sento qualcosa di grosso. QR Code. Uno. Due. Tre. Quattro. Energia Fuoco. Energia Accelerazione Tripla. Tentacruel. Cappuccio Furtivo. Carvagna. Litten. Clefairy. Tentacruel. Gligar. In Kay. Reverse Solo. Eeeeen. Green Ninja. Hollow. Oh dai. Pensavo... Peggio onestamente. Però su sette pacchetti nessuna GX. Nessuna Carta Alleati. va bene magari al prossimo spacchettamento andrà meglio si spera un ringraziamento a tutti per averci seguito in questo video alla prossima ragazzi ciao